Buongiorno carissimi fratelli e sorelle. Dopo aver celebrato l'inizio della Quaresima con l'imposizione delle Sacre Ceneri, ascoltiamo oggi il testo evangelico tratto da Luca al capitolo 9. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, essere messo a morte e risorgere il terzo giorno. E a tutti diceva, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se stesso. Il racconto che abbiamo ascoltato ci ricorda che frequentemente Gesù desiderava appartarsi con i discepoli per dialogare, per confrontarsi e soprattutto per pregare. È un contesto che descrive in maniera chiara e precisa come la comunità cristiana intera è chiamata a radunarsi per condividere la fede, pregando. Si tratta di un momento indispensabile di intimità di Gesù con i discepoli e con la comunità. A questo punto, dopo aver parlato ai suoi, Gesù si rivolge a tutti, spiegando il percorso che ogni cristiano deve percorrere perché in lui il dono di Cristo possa trovare casa e dare frutto. Questo significa condividere ogni passo del cammino del Signore, eliminando la presunzione di fare tutto da soli o addirittura di pensare di salvarsi da soli. E allora Gesù parla della sua passione e indica la via della croce. È un invito che oggi arriva anche a noi, proprio all'inizio del cammino quaresimale. Gesù ci mette in guardia dalle strade troppo facili e affrettate. La via della croce non è un cammino di morte, ma è un cammino di vita che rinnegando noi stessi e prendendo la nostra croce non può che condurci alla salvezza. Buona giornata.